Gioielli da 6 milioni di euro indossati da Evita Perón erano stati rubati a Valencia due anni fa, li hanno recuperati i carabinieri a Milano. Manca ancora la pelle una parte della refurtiva, ma tra i pezzi recuperati c'è la tiara in diamanti che fu regalata alla primera dama argentina dai regnanti d'Olanda nel 1950. Solo questo pezzo vale 4 milioni. In totale la gioielleria Hoja Sofia di Valencia in Spagna deteneva legalmente gioielli per 10 milioni di euro, tutti appartenuti a Evita Perón quando una banda di nomadi li rubò. La polizia spagnola, sulla base del video girato dalle telecamere della gioielleria, emise una serie di mandati di cattura internazionale. I carabinieri riconobbero parte della banda e da lì cominciarono le indagini per recuperare la refurtiva. Sei arresti effettuati in Spagna, uno a Milano, una persona ancora latitante. Eva Perón, moglie dell'allora presidente argentino Juan Domingo Perón, nel 52, quando stava per morire, chiese che i suoi gioielli non venissero mai separati e così è stato, fino al momento della rapina alla gioielleria che spera ancora di recuperare la parte mancante del bottino.